Madame, benvenuta al ritiro per scrittori. Scusa, se prendessi un alloggio più piccolo, potrei saltare tutte le attività di gruppo previste. Cerco solo un posto tranquillo in cui lavorare. Ah, salve. Sono Owen. Catherine, come procede? Bene, credo. Sei uno da fiction o da non fiction? Nessuna delle due. Accompagno la mia fidanzata. Leggi solo Sports Illustrated. Tu perché sei venuta fin qui? Sto finendo un libro. E come va? Bene, credo. Non ti riconosco più. Ti senti minacciato per caso? Ma parli sul serio. Perché non finisci il libro a casa tua? È una storia luna. Ho tutto il tempo. Credo che lo scopo del viaggio sia... Mostrarci quanto è minuscolo il nostro posto nel mondo. Il tuo compagno come gestisce la situazione? Chi dice che ne abbia uno? Wikipedia. Oh, sì, ma certo. Mi hai seguita ieri. Volevo solo accertarmi che fossi al sicuro. E lo subito. Quando sei bloccato nella vita, devi fare qualcosa da cui non si torna più indietro. Piano rallenta. Grazie. 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 Grazie.